Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e il Professor Mario Rainone, in rappresentanza del Magnifico Rettore dell'Università d'Annunzio, hanno sottoscritto oggi pomeriggio a Pescara una convenzione finalizzata a consentire a giovani laureati abruzzesi la possibilità di maturare un percorso di alta formazione presso Università straniere di eccellenza. Oggi abbiamo firmato con l'Università di Chieti Pescara la convenzione importante che prevede un conto finanziario per studenti meritevoli che vogliono partecipare all'alta formazione posta laura in università prestigiose non solo dell'Europa ma anche di altri continenti. È un contributo importante non solo economico ma sta a segnare questo percorso virtuoso di rapporto tra Consiglio regionale, regione e istituzioni universitarie che sono di primaria importanza anche per la sopravvivenza della politica, per quegli studenti che hanno carattere, hanno voglia, hanno capacità ma soprattutto merito e hanno poche possibilità economiche di partecipare a questa esperienza triennale di istituti importanti posta laura. Insomma l'alta formazione serve per acquisire conoscenza, formazione importante e poi rientro in Abruzzo in modo tale che possa essere utile e quindi semi che germogliano per migliorare la qualità della vita dei territori, degli abruzzesi ma soprattutto per il nostro paese Italia. Oggi per noi è l'ennesima convenzione oltre a quella dell'Università dell'Aquila, dell'Università di Teramo che già abbiamo sottoscritto, completare questo giro con l'Università di Chieti Pescara. Lo sostiene in questa convenzione con 18 mila euro l'anno per tre anni per uno studente o due studenti meritevoli che accedono attraverso una selezione molto dura in istituti stranieri dove si fa alta formazione post-universitaria. Insomma in istituti di eccellenza dove possono partecipare i nostri studenti eccellenti, i migliori che lì apprendono, che lì hanno una formazione importantissima per poi far rientro da noi e condividere quell'esperienza con gli stessi professori universitari, con altri studenti ma soprattutto con tutto il mondo produttivo della nostra regione. Questo è un ulteriore riconoscimento delle potenzialità che si possono creare in sinergia tra diversi enti pubblici. In questo momento firmare questa convenzione è un'ulteriore prova che le cose per bene si possono fare. L'università è una realtà importante nel nostro territorio abruzzese, lo è la D'Annunzio, lo sono anche le altre due sedi universitarie e le altre due università abruzzesi. Oggi questo è un ulteriore segnale che gli enti devono percorrere delle strade comuni ma soprattutto sono degli investimenti che noi facciamo sui nostri laureati.